Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi sono qui con la sesta puntata della serie Oldstream Finalmente dopo tanto tempo Allora inizio subito a dire che Quello che voglio fare in questa puntata Ovvero comprare Fare due acquisti diciamo Prima cosa ci serve un trattore Visto che ne abbiamo circa due Quindi pochissimi E poi volevo comprare anche un nuovo erpice Non so se bastano i soldi perchè ne ho Ne ho 50.000 Quindi non penso che bastano Quindi trattore di sicuro ora vi faccio anche vedere Cosa voglio comprare E l'erpice casomai chiedo un po' di prestito Dalla banca quindi adesso vedo un attimo Se c'è da erpicare si chiedo un prestito Allora come trattore ragazzi Volevo prendere io un edit privata Quindi non mi chiedete link o cose così Perchè un edit privata ci ha lavorato Un pochettino un mio amico che lo ringrazio Si chiama Motoralex grazie Me l'ha passata sinceramente Non l'ho neanche provata l'ho scaricata subito Volevo provarla con voi E sarebbe le landini 10.800 Che costa 50.000 euro Quindi i soldi ci sono Però naturalmente mi rimangono 1.000 euro E come erpice volevo comprare Il maschio falco Eccolo 4.600 Che costa purtroppo 27.000 euro E in questo caso dovrei praticamente Chiedere un prestito Ora vedrò Quindi compriamo subito le landini E si Il problema dei landini ragazzi Che essendo in una moda privata Io naturalmente Quando aprirò il multi Non potrò appunto passarla E quindi sarà un po' un problema Comunque si vedrà in futuro Andiamo a ritirarla Al negozio Che abbiamo la nostra New Holland Che è in mezzo al campo Eccolo qui Come già ripeto Come già ho detto E' un edit Quindi Non è che sia proprio Chissà che comunque Mi sembra Vederlo così Mi sembra fatto abbastanza bene Un po' dopo naturalmente ragazzi Non pretendo molto Non l'ho mai provato Eccolo qui comunque Ripeto Grazie Motor Alex E niente Dai Allora Vediamo un po' Dove Voglio vedere un attimo Dove si va Per chiedere In prestito Allora Vediamo un po' La banca Dove Dovrebbe stare qui La banca Dovrebbe essere qui La banca Aspettate che controllo un attimo Qui per vendere Ah no Eccola Eccola qui Allora no Praticamente Si posso chiedere Allora io chiedo Direi Si chiediamo 30.000 euro Ok basta Anche troppi Ne ho chiesti E naturalmente Quando faremo un po' di soldi Gli darò Appunto Gli rispisco Naturalmente Ovviamente Quindi compriamo Che il maschio fa Così ragazzi Mi ho fatto Sti due nuovi acquisti E Viene libero Viso che La seminatrice L'abbiamo comprata Nella scorsa puntata E c'era rimasto Da comprare Appunto Un erpice Ed eccolo qui Vediamo un po' Se ci sta bene Dovrebbe starci bene Perché comunque Il landini E' un 150 cavalli Se non sbaglio Quindi non dovrebbe Neanche aver bisogno Di un'alzavorra Davanti Quindi togliamo L'alzavorra Interni Eccoli qui Ok Senza fare incidenti Si Ok Andiamo Fate il fumo Ragazzi Lo scarico Come vedete Va bene Ok Allora Qui li ripieghiamo E direi un attimo Si lasciamo un attimo Qui il landini Boh Si dai Speriamo che non ce lo rubano Naturalmente Allora andiamo un attimo A vedere Due secondi Scusate ma ragazzi Sto usando Praticamente una tastiera Proprio provvisoria Visto che la mia Mi si è rotta Devo cambiarla Quindi Ho un po' di difficoltà A usare questa tastiera Schifosa Allora Andiamo un attimo A vedere I campi Che Appunto Ho Scusate Abbiamo qui Tanto Penso che sono trebbiati Tutti Praticamente Si Allora Il 23 Il 24 Un attimo Un attimo A vedere Se non sbaglio Il 23 L'avevo Erpicato E Seminato Eppure Trebbiato Nelle scorse puntate Andiamo a vedere Insieme 23 Si Il 23 Seminato Se non sbaglio Era di colza Ora vedo Ecco C'era il 24 Da coltivare Che L'avevo Lasciato Il 24 Perché Essendo un campo Grande Non avevo neanche Mezzi adatti Per Erpicarlo Quindi Lo avevo Lasciato Al momento Infatti Adesso Ho comprato Un nuovo Erpice Posso Tranquillamente Erpicarlo Quindi Direi di Erpicare Il campo 24 E Niente Dopo Appena è Pronta La cosa Anche Qui Anche Il campo 1 È Già Seminato Quindi Un attimo Vedere Cosa C'è Disseminato Crescita Sta qui Ok Allora Campo Numero 1 Di Cos 23 Di Cos Quindi Abbiamo Tutta Cos E Siamo A posto Ok Devo Dovrei Concimare I campi Quindi No Facciamo Una cosa Ragazzi Allora Scusate Se mi sto Un attimo Intrecciando Allora Porto Landini A casa Ecco Lo portiamo Direttamente A casa Cosa Faccio Concivo Un pochettino I campi 23 Campo Numero 1 E Dopo Vado a Spicare 24 Così Vado Un po Per fila Se no Intreccio Tutto E dopo Non combino Più Niente Sentite Che sound Non so Se si sente Nel video Il sound Comunque Va bene Poi Naturalmente Ditemi Cosa ne Pensate Tanto Io Le critiche L'accetto Sicuramente L'accetterà Anche Il ragazzo Che me la passate Che mi ha passato Appunto La mod Questo Lo lasciamo qui Guardate Neanche Neanche lo sta qua Perché per Concimare Uso il deus Direttamente Uso il deus Che sta qui Ecco Posso la gaspardo E Vado appunto A concimare Ecco la gaspardo Era l'acquisto Della scorsa puntata Poi Ho pensato Ragazzi Di comprare Ancora Di fare un altro acquisto Ora non so Dirvi niente Ancora Perché Non è sicuro Nella prossima puntata Di comprare Addirittura Una nuova trebbia E Praticamente Questa trebbia E anche E' una moda privata E Si ce l'avevo fatto Anche un po' in video Vabbè Dopo vedrete Naturalmente Dopo vi farò Vi dirò tutto Comunque per ora Non lo so Perché devo aspettare Devo fare un pochettino Di soldi Quindi se O se la prossima O se fra due puntate Vedrò Questo lo lasciamo qui La seminatrice Poi come al solito Lasciatemi consigli Su cosa acquistare Ok Vai Prendiamo Lo spandi Con cime Ok Tutto sporco Come vedete Vai Andiamo Andiamo Tutto sporco Caricato All'86% Vabbè Tanto Si fa in fretta Diciamo Visto che dovrebbe essere Il più grande Che c'è Si Mi sa più grande Ma un po' quanto Quanto raggio di azione Si dai ce la fa A voglia Vai andiamo qua Ok Poi dopo Faccio 23 E naturalmente Vado ad erpicare Il campo 24 Lo erpic Dopo direi di seminarlo Che ne so Facciamo mais O frumento D'orzo Naturalmente colza No perché Se no Troppa colza Si Facciamo così E comunque Penso che sia stato Un bel acquisto Tanto già ve l'avevo detto Che avrei comprato Un nuovo trattore Ero indeciso Se prendere Un Fiat Oppure un Landini Però visto che Appunto Ho avuto l'opportunità Di Mi è stata Dato l'opportunità Dell'Andini Allora ho deciso Di comprarlo direttamente Ecco Qui abbiamo fatto Benissimo Andiamo al 23 Andiamo al 23 Direttamente Poi Notizie riguardanti Farming Simulator 17 Non ho fatto Più video a riguardo Adè comunque Tanto ragazzi Ormai si sa Non sto neanche a fare Altri video Uscirà Tanto 25 ottobre Se non sbaglio Quando esce Comincio a farci video Seri Come ho fatto Con il 15 All'inizio appunto Appena uscito Naturalmente Ora Sono migliorato Rispetto ad anni fa Quindi spero Di portare Anche un primo Grandplay Fatto un pochettino Meglio Diciamo Rispetto a quello Che avevo fatto Su farming Simulator 15 Non vi sto neanche a raccontare Perché mi vergogno Veramente Farming Come ho detto Giants Sta andando avanti Per ora Non si è fermata E dal 2008 Se non sbaglio Che continua A pubblicare A vendere Farming Sta andando avanti Un anno Si un anno No Praticamente Un anno PC Un anno Praticamente Play No Aspetta Un anno PC e Play E console Diciamo Un altro anno Smartphone E tablet Quindi 2017 PC e console Poi 2018 Solo smartphone E tablet Fanno così Loro Hanno questa Tecnica Da una parte E' meglio Perché sinceramente Un farming All'anno E' secondo me Anche un pochettino Troppo Quindi è meglio Magari Migliorarlo Di più Ma magari Farlo uscire Ogni due anni Poi naturalmente Questa è una mia opinione Personale Dopo voi Potete anche dirmi Come la pensate Diciamo A riguardo Si Quello abbiamo fatto Andiamo al 24 Si lo concimiamo Subito Perché tanto dopo Sin tanto dopo Anche se lo erpico Dovrebbe rimanere Lo stesso Il concime Su farming E' così Almeno penso Su questo Purtroppo Non sono molto informato Il problema Che Non si riesce A capire Dove sto concimando Vabbè comunque C'è qualche piccolo Spazio vuoto Dove si capisce Vabbè Alla peggior Dei modi Alla peggio Comunque Lo ripasso Non è che Non c'è problema Se nel caso Dovesse Appunto Andare via Al concime Dopo aver L'erpicato Comunque Non dovrebbe Andiamo un po' Vai Vai Così Ok Non si capisce Niente Però va bene Va bene Lo stesso Si dovrebbe sentire Bene anche L'audio del gioco Stessa cosa Per il microfono Spero Perché Non ho Non anche Non so Te sanno Neanche Tanto Allora La serie Ode stream Come vedete Ragazzi Sto pubblicando Pochissimi Video Mi dispiace Tanto Lo so Praticamente Si È un periodo Che Tra che ha iniziato La scuola Eccetera Eccetera Tutto quanto Comunque Adesso vedrò Vedrò Come già ho detto Nel video Ringraziamento A 2700 iscritti Vedrò Se ripartire Appunto Caricando video Più frequentemente Naturalmente Non farò mai Un programma Ad esempio C'è un video al giorno Non lo caricherò mai Ma comunque Sto pensando Di ripartire Caricando più video Perché come detto Ultimamente Sto caricando Pochissimi Una settimana Un 2 3 al mese Eccetera Eccetera E quindi Sto pensando Di ripartire Come già detto Nel vlog Per chi non l'avesse visto Dei 1700 iscritti Ringraziamento E anche questo campo È concimato Allora Cosa faccio ragazzi Per non annoiarvi troppo Direi che Si vado a prendere Landini Con Appunto L'erpice E ve lo porto Direttamente al 24 Ci rivediamo Fra due secondi A fra poco Ok ragazzi Eccomi qui A velocizzato il video Come avete potuto ben vedere Allora Iniziamo ad erpicare Questo bel campo Che se non sbaglio Il campo più grande Della mappa Mi sembra di si Sia 24 26 Anche il 10 È abbastanza grande Uno dei più grandi Non ci interessa Lo stesso Dai parto Ad erpicare Ammazza come tira Sto Landini Veramente Ottimo Ottimo Veramente ragazzi C'è il Deutz Non era accettato Proprio C'è per l'erpicatura Ci vuole veramente troppo Comunque ho fatto bene A lasciare sto campo Perché essendo molto grande Ho fatto bene Allora Come vedete Si erpica Veramente facilmente Grazie sia a Landini Che al Maschio appunto Che Sì vabbè dai Così si fa in fretta E via Due bei acquisti Diciamo Poi naturalmente Più si va Quando andrò avanti E farò qualche soldo Restituirò tutta la banca E via Tanto penso che Tra questa E la prossima puntata Lavorerò un po' Anche dietro le quinte Ovvero trebbierò Riseminerò Eccetera eccetera Cose che non faccio Sempre nei video Perché altrimenti Diventa troppo noioso Quindi magari Vedo di fare un po' Di soldi Detro le quinte E via E passa la paura Qui intanto Metto un po' Di visuale All'interno Dei Landini Poi Si sto pensando Anche di No sto pensando Adesso velocizzo Un pochettino Anche il video Fra poco Come al solito Come vedete Alcune parti Non sono concimate Purtroppo Ma Non ci posso fare niente Qui abbiamo anche Le lampeggianti In 3D Se non sbaglio Da quello che mi è stato detto In 3D Ok Come vedete Ci sono alcuni punti Che me li salta Appunto A causa del terreno Se non sbaglio Avete detto Se sto parte Me lo salta Perché come ho detto Il terreno Non è proprio Guardate Adesso Qui si forma Una specie di conca Come vedete Quindi non me lo fa Vabbè Lasciamo stare Comunque dai Il più me lo fa fare Un pochettino Sugli angoli Ha qualche difficoltà Ma questa Naturalmente A causa Del campo Nel modo Non c'entrano nulla Ovviamente E vabbè Niente ragazzi Adesso continuiamo Velocizzo il video Così magari Vi divertite di più A vedere il video Velocizzato Senza che sto qui A far Del picare Vabbè Velocizzo un pochettino Il video Ci rivediamo Fra pochissimo E vai Velocizzo Velocizzo un pochettino 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 Eccomi qua ragazzi Come vedete ho quasi Praticamente ho terminato di Erpicare Vedo quello con i silos Vediamo po' se riesce A prendermi Tutto quanto Ok Ottimo Qui ripieghiamo tutto Dato che qui mi si è attivato Il course play Che non ho neanche usato Quindi Automaticamente mi si è attivato Ehm Sì Andiamo un attimo a vedere Non mi ricordo dove è Quello qui Allora E' un po' Qua sappiamo nel silos Ehm Frumente Siamo a posto Quindi Ci manca cosa Che ho già asseminato Appunto Campo 1 Campo 23 Quindi direi di fare patate Oppure orzo Io direi di fare Eh sì patate scusate Direi di fare mais Oppure orzo Facciamo mais dai Oppure potrei fare Ma no dai Mais Va bene mais Per ora va bene mais Poi prossimi Semine Prossime due volte Che seminerò Farò orzo Sicuramente Che ne abbiamo poco Appunto Dove sto andando Al cimitero No Oddio Al cimitero Va bene Accidente Devo scendere sotto Mi sono un attimo Intracciato Comunque Va bene Dai Sollandini Va più che bene Un bell'acquisto Direi Va più che bene E ora Vado A sopra Andrò Asseminatrice Naturalmente Sempre con l'andini Vado Perché ne approfitto Anche se Asseminatrice Sarebbe Benissimo Anche con Indeus Però Ne approfitto Di questo nuovo Acquisto Fresco fresco Per appunto Usare anche Asseminatrice Si faccio Anche prima Il erpice Lasciamo un attimo Qui dopo Lo sposto io Con più calma Vedete Si è un pochettino Sporcato Soprattutto Le ruote Interni Tutto ok Si Prendiamo L'assseminatrice Ci va ad asseminare Il campo 24 E praticamente Ci vorrà Un bel po' Ok Attualmente L'assseminatrice È anche un pochettino Più piccola Quasi quasi La riempo Perché Per sicurezza Non vorrei che dopo Rimango a secco Ok Riempita Fatto E andiamo al campo 24 Senza Naturalmente Fare incidenti Ok Ci siamo qua Sicuramente Ha fatto un piccolo Salto Landini E poi naturalmente Ragazzi In futuro Dovremmo anche Comprare Un nuovo campo Anzi A breve Penso Già Nelle prossime puntate Un nuovo campo Perché così Non va bene Abbiamo anche Il 26 Cavolo Il 26 Aspettate ragazzi Un attimo Andare a vedere Il 26 Perché Non l'ho mai visto Veramente Non è possibile Il 26 Di cosa Un attimo No perché Se c'è il mais Il 26 No no Erba Il 26 Erba no Infatti Mi sembrava strano Ecco Non l'avevo mai visto Anche il 25 Stessa cosa Ok Per ora Non ci serve Cioè Questa è Erba Sì Va bene Ritorno In campo Ok Sì ho sbagliato Eccomi qui Scusate Abbiamo detto di fare Mais Mais Benissimo Facciamo mais Così dopo magari Vario anche un pochettino Sulla trebbiatura E vabbè Qui come vedete Non mi ha concimato Naturalmente Adesso neanche mi interessa Sinceramente Poi vedrò Se passarci sopra Ripassarci una seconda volta Ma penso di no Perché Alla fine è un pezzettino Piccolino Diciamo Finalmente ragazzi Cioè ci voleva Un mezzo decente Ci voleva perché Cioè con quel Deus Veramente Era una cosa micidiale Oltre che era lento E tirava male Slittava E cose così Come vedete C'è un po' il problema Anche qui Del terreno Come nell'erpicatura Uguale Ma vabbè Pazienza Si va avanti Lo stesso Comunque si Tira a bestia Su Landini Veramente Va molto bene Un acquisto Direi Fatto Per bene Non mi sono pentito Praticamente Alla fine 50.000 euro Si sono Abbastanza Ma non è neanche Un prezzo Eccessivo Rispetto ad alcuni mezzi E alcuni trattori Che costano molto di più Infatti Per esempio La mia scelta Era O Landini O Fiat Cioè volevo basarmi Su questi due marchi italiani Dopo ho puntato su Landini Perché Appunto come già vi ho detto prima Ho avuto l'opportunità C'è stata l'opportunità Dell'Andini Ho questa opportunità Quindi non ho approfittato Ma naturalmente Anche Fiat Si ne acquisteranno In futuro Eccetera Eccetera Quindi Cioè con tutta la calma Si acquista tutto Anche se sicuramente Ragazzi Purtroppo Visto che A fine ottobre Uscirà Farming Eccomi qua ragazzi Tre puntate In senso Si due Tre massimo Quattro Ora vedo quante O almeno Che Continuo a fare le serie Nonostante sia uscito Farming E singoletto 17 Ma Una cosa molto strana Perché comunque Quando esce Farming E singoletto 17 Tutti A guardare quello Comperso me Tutti a giocarlo E via Quindi Non penso di Continuarla Di continuare la serie Anche quando è uscito Farming Il simoletto 17 Perché non so neanche Se interesserebbe E vabbè Però dai Ora vedo Mi organizzo un po' Tra me Vedrò cosa fare Tanto io Qui continuo a seminare E vabbè Ci rivediamo fra un pochettino Magari vado un pochettino avanti Non finisco il campo Ma comunque Già una parte Vuoi farla Off camera Se dopo il video Diventa troppo lungo E noioso Di tanto Landini Non si stanca Mai Va avanti come un toro E via dai Vabbè ci rivediamo fra poco ragazzi A fra poco Ok l'ultimo pezzettino E fatto Vediamo un po' La seminatrice è al 53% Quindi Vedo che ha una bella capienza Diciamo E niente dai Adesso io qui Blocco Dopo dietro le quinte Porta a casa Landini E vi lascio Con questa visuale Dei Landini Così E con questo Chiudo il video Niente ragazzi Dai direi che Per questa puntata è tutto Abbiamo Erpicato Seminato Fatto questi due nuove Acquisti Ovvero Landini E appunto Maschio Falco 4600 Niente Se vi è piaciuta questa puntata Lasciate un buon mi piace Commentate Naturalmente Lasciate consigli Allora ragazzi In questa puntata Non ho letto Appunto i commenti Scusate ma Mi sono dimenticato Porca miseria E No veramente Non ho letti Mi dispiace tanto Ma comunque Cosa faccio Nella prossima puntata Leggerò I commenti Sia di questo video Sotto questo video Che quell'altro Della scorsa puntata Vabbè Niente dai Iscrivetevi per rimanere aggiornati Spero vi sia piaciuto Questo video Niente La GFARMER Zero Non è tutto Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao ragazzi Alla prossima Ciao ciao Ciao